Poi, a me, 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 a me... Aspetta, Simone, Simone, aspetta, questo, questo è una roba che è bella... Tra i miei dolori sei sempre più bella, e mi davanti la visione. Che è una bellissima parola, cioè, una frase, però, non avrai mai scritto la cosa così per una ragazza? No, ti piacerebbe se è fidanzato? No, c'è qualcuno che vuole parlare con qualcuno? No, meglio no, grazie, io, meglio no, il titolo della canzone è RDC, quindi sono due parole con la E, che cosa? È famosissima, è anche una canzone, come dire, molto rock, bastano di quattro ore, RDC, RDC, sopra il calcium, pesante, che irresponsibleけど gli ruoli, posso dire uno sentimi a prendere i Вы, i Tu, i Tu, i Fu, i Tu, 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 i Du, i Tu, i Tu, i Tu, i Tu, Grazie a tutti.